Salve avventurieri, io sono Zed e oggi in qualità di Master vi raccontarò più nel dettaglio chi sia Astalos. Piccola nota prima di continuare nel video, la prima parte della registrazione, quindi la preparazione dello sketch, ho dimenticato di registrarla però la potete tranquillamente recuperare in live su Twitch, link sotto in descrizione. Astalos, un giovanissimo reade nato nei territori dell'Irisen, è uno schiavo del Taldor, ovvero una regione del mare interno che sta vivendo un periodo di decadenza dopo una serie di guerre per la conquista dei territori. Iniziato il combattimento per proteggere i suoi padroni da una delle tante scorribande causate dal fatto che loro sono tutti in decadenza, riesce a fuggire tramite una delle tante rivolte e tornare nei suoi territori nativi. Venuto a sapere del coinvolgimento dei Taldani nella protezione della giovane Malassin, la principessa che abbiamo salvato prima, nell'ultimo episodio, è stato combattuto tra i ricordi del dolore di cui porta le cicatrici, oppure la voglia di prendersi una vittoria morale, il senso di vendetta, presentato dal fatto di poter dimostrare di essere meglio dei suoi padroni, meglio dei Taldani. Oltre al dolore possiede anche un'altra arma, che è la rabbia. Questa rabbia continuerà a crescere e prima o poi esploderà.